buongiorno e benvenuti di nuovo al lion bull academy oggi ci abbiamo nella sezione indicatori strategie e analisi tecnico parleremo del mac d il mac d è un indicatore un oscillatore che ci fa vedere sia la tendenza che le divergenze che ci siano nel mercato va bene nel libro questo lo spiego poi sarà uscita in italiano che sarà anche spiegato lì l'ho messo perché mi piace uscito molto bello la copertina dai cominciamo questo è il mac d che troviamo per esempio in netoro adesso spiegheremo di cos'è composto e poi all'ultimo andremo su un grafico reale e faremo vedere differenti tipi di entrate va bene questo è il mac d che non mi sembri non è complicato da leggere all'inizio sembra molto strano però la verità è abbastanza semplice c'è il più difficile di questo è per leggere le divergenze dai cominciamo qua abbiamo l'indicatore suddiviso in differenti parti questo dove io ho scritto media mobile lenta io l'ho scritto così perché cinque anni fa l'ho imparato così e l'ho scritto così questa realmente è la media mobile del mac d che è formata con la formula matematica di due medie mobili esponenziali si fa una formula matematica e diventa questa media mobile io l'ho chiamata lenta però realmente sarebbe la media mobile del mac d possiamo scriverlo scriviamo così scrivetevelo anche voi così se qualcuno non si incasina così almeno lo sa anche poi questa è la media mobile rapida veloce dovrebbe essere scritto in italiano non so perché ho lasciato rapida la media mobile veloce sarebbe la media mobile della segnale lo possiamo scrivere anche bene lo scriviamo anche qua e lo sapete anche voi meglio che allora queste sono le due mezze mobile che formano il il mac d poi ci abbiamo anche l'istogramma che ti fa vedere come potete vedere qua ci fa vedere si può dire più o meno il movimento anche del prezzo quando sono le barrette verdi andando in su sarebbe il prezzo positivo quando sono le barrette rosse andando in giù sono prezzi negativi va bene verde è quando il movimento del prezzo è superiore a quello della barra anteriore allora diventa verde se invece la barra è inferiore alla barra anteriore diventa rossa così più o meno sarebbe poi c'è la zona centrale del mac d tutto quello che ha di sopra della zona di zero sarebbe il livello positivo su quello che è di sotto è il livello negativo questo è come formato si un po casinato adesso andiamo a spiegare come si usa che vedrete già è molto più semplice non serve capire questo perfettamente basta capire le segnali che ci sta dando cominciamo questa è la strategia numero uno che come si potrebbe utilizzare il mac d come potete vedere qua ho già segnalato tutte le zone di vendita e voi spiegherete come funziona questo adesso ve lo spiego è semplice quando la linea nera incrocia al ribasso la linea rossa ed è al di sopra della zona centrale sarebbe nella zona positiva sarebbero vendite perché il prezzo già comincerebbe a voler scendere si potrebbe dire il suo momento sta scendendo sta perdendo forza allora come potete vedere queste sono tutte zone di vendite quando ritorna su non ci facciamo caso è lì zone di vendite ok invece quando la linea nera incrocia al rialzo la linea rossa ed è al di sotto della zona 0 allora sarebbero compre come queste che vi ho fatto vedere qua che questa è una forma di fare una strategia già adesso nel grafico vi spiegherò un po meglio facendolo anche vedere sul grafico poi abbiamo la strategia 2 ancora più semplice quando le due linee vanno sotto la linea di 0 sarebbe così che passano sotto la linea 0 sono vendite quando le due linee passano sopra la linea 0 sono compre un'altra forma da fare ok poi c'è la terza che un po più la complicata che bisogna un po di pratica per impararla sarebbero le divergenze queste sono le divergenze quando l'indicatore ci mostra un movimento però la tendenza del prezzo ce ne mostra un altro in questo caso esattamente questo esempio come potete vedere il prezzo ha fatto due massimi al rialzo il primo massimo e il secondo massimo è più elevato del primo allora si sta mostrando una tendenza al rialzo però la divergenza che c'è qua e che cos'è che il macd ci ha fatto vedere due massimi al ribasso come potete vedere qua è più basso in questa zona qua allora al farci vedere questa zona così diventa divergenza al ribasso sarebbe che nel futuro non è sempre detto però le probabilità sono che il prezzo da questa parte cominci a scendere cominci a scendere allora ci potremo cominciare a cercare un'entrata in vendita qua lo spiegate tutte per per zone sarebbe quando il prezzo fa massimi crescenti però l'indicatore fa minimi di crescenti è una indicazione di che il prezzo potrebbe andare potrebbe andare al ribasso quando i minimi sono di crescenti e i minimi dell'indicatore sono crescenti che il prezzo potrebbe andare al rialzo poi c'è la zona la zona b che la chiamo sarebbero che il prezzo ha fatto minimi di crescenti però l'indicatore ha fatto massimi crescenti come potete vedere sarebbe massimi di crescenti e massimi di crescenti qua lo spiego un'altra volta che l'ho spiegato male ok quando il prezzo fa massimi di crescenti e l'indicatore fa massimi crescenti sarebbe che il prezzo è al ribasso ok il prezzo dovrebbe andare al ribasso quando l'indicatore sarebbe il prezzo ci dà minimi crescenti però minimi di crescenti nell'indicatore è che il prezzo dovrebbe andare al rialzo ok questo è più o meno impararselo guardarlo sempre con la fia lo potete stampare e averlo vicino a voi così lo vedete meglio ok andiamo adesso a un grafico reale andiamo per esempio a questo MACD in 5 minuti andiamo a vedere come si mette prima di tutto stiamo nell'SP500 dentro i toro col graficatore di i toro schiacciamo qua studi 2 MACD lo lasciamo così come adesso come vi avevo spiegato la linea nera del MACD sarebbero la formula matematica che usano con queste due la mezza mobile esponenziale veloce e la mezza mobile esponenziale lenta questo qua si forma e si crea il MACD per questo lo chiamo lento poi c'è la mezza mobile esponenziale di 9 periodi sarebbe questa rossa qua e il segnale che si lascia sempre così come questo di normale come si lascia di di default nel grafico andiamo a crearla e qua si può vedere meglio facciamo questo un po' più grande così lo possiamo vedere meglio come potete vedere la linea nera è quella che vi avevo detto si forma con quelle due mezza mobile esponenziale con la formula matematica e la linea del segnale è una mezza mobile esponenziale di 9 periodi e poi c'è la linea di 0 e l'istogramma ok andiamo a vedere qua cosa ci sta dicendo per esempio un paio di esempi per esempio siamo in questa zona qua qua la linea nera del MACD incrocia al rialzo la linea rossa e ci dice che è una compra allora in questa zona di qua noi compriamo poi ritorna giù possiamo ci sono due cose da fare o chiudiamo l'operazione o perdita o vincita lì o se abbiamo deciso di mettere uno stop loss in questa zona qua per esempio negli ultimi minimi che ci sono in questa zona qua allora lo possiamo mantenere lo manteniamo lo manteniamo e alla seguente entrata che ci dà rientriamo un'altra volta e alla seguente rientrata che ci dà rientriamo l'ultima volta e poi chiudiamo il nostro profitto uno facciamo il rischio uno profitto uno virgola cinque questo è un modo da utilizzare ok lo spiego poi faremo se volete uno di questi giorni farò operazioni reali o sarebbe con il demo perché se faccio una reale io uso normalmente un'ora non uso così piccoli time frame e ci metteremo troppo a farla vedere faremo in virtuale in un minuto o in cinque minuti delle entrate per farvi vedere come funziona così lo capite meglio va bene questa è una forma di entrare questo vi ho fatto vedere una compra poi ci sono anche vendite andiamo a vedere per esempio qualche vendita anche qua esempio qua la linea si incrocia entriamo in vendita però poi come potete vedere qua il prezzo si rigira e questa l'avremmo persa la verità l'avremmo persa qua ci ridà la compra perfetto qua ci ridà la vendita in questa zona di qua ci ha dato una vendita che sarebbe qua ci entriamo stop loss qua take profit attorno qui non ce l'ha dato anche questa ce la dava in perdita ok è un indicatore che ci ha un ratio di vincita del 60% se fate le operazioni con rischio 1 beneficio 1,5 allora potete stare tranquilli che alla fine ci fate bei soldi con questa ok l'importante è avere costanza ok questa è la seconda la prima forma di vederlo la seconda forma è quando il prezzo rompe quando sarebbero quando le due linee passano al di sotto la linea di 0 entriamo in vendita quando passano al di sopra entriamo in compra questa è un'altra da fare ok come vi ho detto inter-proalità maggiori funziona meglio però funziona in tutte le pluralità io sono abituato a utilizzarlo in un'ora 4 ore un giorno e l'ultima che vi avevo detto era la divergenza la divergenza è facciamo per esempio qua giusto ce n'abbiamo una adesso qual è? i massimi che ci ha fatto il prezzo per adesso sono massimi ha fatto un doppio tetto qua come vedete in questo mondo qua c'è un doppio tetto però il indicatore qua ci dice che c'è una divergenza al ribasso allora perché ho guardato questa qua e non questa? perché qua mi ha fatto un doppio tetto quando invece qua non me lo fa vedere allora mi sono subito dopo aver visto io il doppio tetto me ne vado subito qua e cerco quella divergenza guardando soltanto i massimi allora andiamo a vedere il nostro disegno quando fa doppio tetto e la divergenza ossia l'indicatore ci dice che va al ribasso è più probabile che il prezzo nel 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 potrebbe andare al ripasso ricordate che è soltanto una possibilità non è detto che lo faccia però secondo le statistiche è molto probabile che lo faccia allora noi ci prepareremo a cercare possibile entrate in vendita se per esempio non rompesse i massimi potremo se un'altra volta qua in questo ribasso comincia a scendere già entreremo con lo stop loss messo un pochettino più sopra del della linea che ha fatto qua della nostra resistenza quelle sono le maniere da utilizzare ok e questo era tutto per spiegarvi il video se vi è piaciuto il video schiacciate il like se avete ancora dubbi commentate sotto ve lo rispiego un'altra volta non c'è problema faremo nella prossima settimana perché stasettimana non ho proprio tempo cioè tutta completa nella prossima settimana faremo caso mai video farò un video facendo vedere una strategia o se ho tempo questi giorni faccio dei video facendo vedere entrate e chiusure in temporalità di 1-5 minuti così si può vedere nello stesso video perché non voglio tagliare voglio far vedere come si apre e chiude nello stesso momento così lo capite meglio perciò se vedo qualche operazione la farò e ve lo farò vedere in video in questa prossima settimana se avete dubbi commentate sotto lo rispiego un'altra volta non c'è problema e sospedetevi al canale ok? molto importante grazie tante per avervi iscritto già tutta questa gente e mi fate un favore grandissimo se vi continuate a sospedire al canale molto importante per farlo crescere dai moltissime grazie ci vediamo alla prossima ragazzi grazie a tutti